Per Federico Di Bucchi con Gianluca Cifuni post Napoli Livorno. Gianluca come giudichi la prestazione di questo Napoli dopo l'assimo? Insomma direi che per inerzia questa Napoli è riuscito a vincere come un avversario non proprio esaltante, però insomma con il minimo sforzo è riuscito ad ottenere il massimo. Ottimo Mertens certamente, Amsic al di là del gol non ha fatto tantissimo, lo stesso dicasi per Caglion, ripeto se fossero tutte così le partite sarebbe una parola perché Napoli è riuscito con il minimo sforzo a tenere il massimo risultato. Pandev come giudica la sua prestazione? Senta in netta ripresa? Il migliore in campo Pandev e Mertens per il Napoli nettamente. Una squadra in alcuni elementi ferma sulle gambe, viene la sosta ed è meglio così. Credi che questa sosta appunto possa favorirci anche in virtù di uno spostamento poi con la Roma? Come vedi questa situazione? Capita a fagiolo per il Napoli o non? Capita a fagiolo perché ci sono giocatori che devono recuperare gli infortuni, Higuain, Albiol, Swinga, infortuni scolari, quindi seguiranno un programma di recupero nel corso di questa settimana, non partiranno per la Nazionale. Con la Roma, big match nel campionato, credo che si giochi venerdì, domani sarà deciso, e per il Napoli non ci sono problemi perché non partendo per la Nazionale i giocatori più importanti non avranno il problema di poterli fare. Credo che si giochi venerdì, non ciò.